buona era buona sera come al solito le presentazioni io sono giona l'altra voce che sentite con relativo faccione eccomi e james a e insieme siamo g e g e così potrete insultarci allegramente quando ci vedete per strada e ora per il controller della posta e spiega anche come è caduto allora è caduto dalla mensola dove lo tengo normalmente perché mi sono impigliato nel cavo ecco si è impigliato nel cavo e quindi il cavo attirato il controller che è caduto è caduto su un pulsante incastrandolo per cui quando avrò tempo cioè tipo domani dovrò smontare il controller vedere se riesco a dising tra il pulsante ma veniamo noi altrimenti mi dovrò comprare un altro controller cinese del compatibile con la 360 ma veniamo a noi e la serata il programma di questa serata è fare un po bro lalla e un po batterite che batterite che è un gioco che abbiamo iniziato come un gioco a caso ma che ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di utilizzarlo per picchiarci un po' se avete un po' di giochi a caso se avete amazon prime e twitch prime soprattutto twitch vi ha regalato cioè twitch amazon e di twitch vabbè ok loro vi hanno regalato un gioco che si chiama te lo dico perché deve essere un gran bel gioco che si chiama the flame in the flood che è carino è un survival molto 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 è stato un'oretta e non è male merita va bene io direi che iniziamo il combattimento perché altrimenti qua non facciamo assolutamente niente secondo me merita anche perché è gratis sai che c'è un motivo se i giochi gratis non saranno mai allora se lo volete comprare no è gratis perché te lo regalano se lo volete comprare costa 18 sterline che è apparente di gratis ha 18 sterline e parente di qualche inglese no 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 cazzo e noi ringraziamo jenksa per questa grande manovra e non so usare mouse questa grande gesta politica mi fa giocare col mouse potresti vincere perché di solito cosa faccio solito siamo un po' più è un po' io un po' te cazzo si fa saltare con la W ah con la W eh sì no ma mi sembra strano ma il mouse non ha i tasti direzionali mi sembra strano ma secondo me lo sai meglio di quello che dici non mi pare stai cliccando sì che succede sei morto quello l'ho visto io lo so cosa hai fatto schifo oh ok pausman oh allora te la stai cavando malissimo per uno che non cioè insomma sei a meno nove non è molto diverso dal solito ma se ho anche vinto sì e varie volte alcune volte si è arrivato anche a meno dodici eh col controllo sì e la gente è brava non si eravamo io e te i bot adesso sono a meno dodici magari fate il torrent guarda ma c'hai ho imparato questa cosa stare contro le pareti guarda mi spalla senta tra l'altro sono morto solo perché cado complimenti è un bel problema però eh coordinazione ti chiedo controller ci riesco a trattare sui tasti del mouse guarda è la cosa più facile di questo modo devo riparare sto però adesso non lo posso fare dovrebbe essere un episodio creative è che dopo che giochiamo a brawl la fai vedere come è distrutto il tuo controller no ma da fuori non si vede c'è solo uno dei due tasti il problema è che non si vado tanti su fa un rumore brutto fa un rumore di cose che ballano dentro beh è cinese dai vabbè l'ho pagato l'avrò pagato 10 euro no i tasti non fanno i grilletti perché adesso ci sono due jenksa ho preso il controller e lui però con la tastiera devo uscire eh devo arrivare a 5.000 per comprarmi eh ma per arrivare a 5.000 devo fare delle partite perché con queste qui guadagni una partita pubblica fai due partite hai 4.000 monete eh no non è vero se fai le miss a daily a daily a yup a yup xilon yup xilon non c'è l'armi non c'è l'armi c'è l'armi c'è l'armi è proprio rotto hai rotto il cazzo è quattro volte di seguito la testa mossa e che due varoni non mi posso muovere adesso l'ho rotto del tutto il controller la vacca no no ma dai ci mancava mezzo metro che mi salvavo c'è il cosplay di nuyasha in effetti il cosplay di nuyasha è decisamente rotto ma guarda il fatto che sia spiritoso non è che ah ho capito perché non funziona finisco fuori dalla finestra del gioco scusami non è difficile ti ricordo che ho due monitor se tu sbatti contro gli spigoli dello schermo la freccia rimane dentro se io esco dall'angolo sinistro esce sul basso e tutte scuse guarda le scuse che lui trova per giustificare il fatto che perde è proprio questa che mi hai buttato giù ah dovevo andare mi fa ancora mi fa mi fa ancora l'avevi già fatto qualche settimana fa attacchi direi gg giusto perché per ricordarci chi siamo in realtà basta ragazzi è complicata stasera c'è una fusta vabbè se ti facciamo battere ret così non hai scuse no no va bene non ti preoccupare adesso come faccio a uscire che cosa? no ma guarda che tu puoi passare da controller a tastiera senza uscire ok va bene che poi non funziona mai quello bluetooth quello bluetooth non ho capito perché funziona su windows 7 ma tranquillamente eh cioè non devi neanche farlo fa attacchi e va cioè lo attacchi glielo fai riconoscere e va e c'è su io cambio così cioè perché altrimenti poi viene il livello della grugo e quindi non è bene ah è vero quindi è meglio non optare troppo per una donna eh scendiamolo ok è proprio dove volevo andare tranquillo tranquillo picchia core c'è ne lo so io notevole ok no ero fermo io non stavo giocando ho visto che eri fermo ma tanto stavo picchiando i bot voglio un'arma volevo le pistole veramente ma ah hai scoperto quel trucco cosa di lanciare la gente in aria mi credi che cliccando a caso sono riuscito a mutare twitch per esempio interessante non ci credo Grazie a tutti. Eeeh... Non riesco a fare quello che volevo fare. Cos'è che volevi fare, che non riesci a fare, anche se lo volevi fare? No, basta tenere premuto di più. Allora. Questo. Fa questo. Dov'è l'arma? Eccola qua. Scusami, dopo un po' rompi le scatolette? Per andare... Per fare quello che devo fare, cosa devo fare? Aia! Per fare quello che volevo fare. Se riesco a rientrare, no! Però sono arrivato a zero, dai, ero secondo. Sono arrivato a 18, notevole. Sempre GG, così le persone che guarderanno questa live si ricorderanno chi siamo. Ricordiamo GG significa grandi gonzi, cosa credete? Certo. Eeeh... Vedi? Si può giocare con la tastiera? Si può giocare con la tastiera? Che dice che non si può? È solo con la tastiera, ok. Si può giocare con la tastiera? Chi ti ha detto che non si può? Io stavo facendo pombo, mouse e tastiera. Per chi non se ne fosse accorto mi sono soffiato il naso. Ne siamo accorti. Perché te ne hai leffato? Cioè, voglio capire questa cosa. Perché ho premuto H. Perché? Perché è uno dei tasti. Perché premere H? Per leftare. Ma perché? Cosa serviva leftare? Niente. Appunto, allora perché lo fai? Volevo premere C. L'ho fatto ancora random. Però intanto giochiamo contro Artemis. Ho visto. Paul. Che fortuna. Che fortuna. Artemis Paul. No, non è Artemis Paul. Vuoi fare anche i gestaci. Fumeri. Secondo te io gioco a Brawlhalla per fare i gestaci. Si, è divertente. È una pagina su Tumblr molto carina su Brawlhalla. Le illustrazioni personali. Lui ci ostina ancora a giocare competitivo in Overwatch. Beh, non cambia molto rispetto a Brawlhalla. Perdo sempre. Perdo comunque. Ma tu riesci ad arrabbiarti se perdi a Brawlhalla. Infatti, è difficile. È talmente cretino come gioco che... Ah, ma ero io quello lì che volava. Ho avuto un attimo di... Sì, ma rimando. È un'arma. Oh. Perché le raccolgo e le lancio? Perché schiacci il pulsante per farlo. Dai! Non me ne sarei mai accorto. Ancora! Una volta l'ho lanciata volendo farlo. Solo perché mi hai colpito mentre lo lanciavi. Perché altrimenti non lo sarebbe. Ancora! Guarda che le armi devi usarle contro gli avversari. Non lanciarle a caso. Tra l'altro, ho visto che fanno pure danno quando le lanciano. Sì, è un colpo per colpire i nemici. Non c'è una... Eheheheh! Come hai fatto? No, son benissimo come ho fatto. Il fatto che ci sia riuscito è un'altra paia di maniche. Ah! Vorrei più... E' di... Però in effetti so benissimo come ho fatto. Vorrei... Tu hai rotto i maroni? Ah ma forse tu ti dicevi a me che avevo rotto i maroni. Ce l'ho lanciata di nuovo! Opa! No! C'è lì che stavo caricando il colpo... Ma tu la hai lasciata nei denti. A posto! Ma guarda che posa! Guarda che cosa! Quella è stata una... Una ripresa plastica, guarda. Una mossa plastica che... Di una bellezza sconcertante. Dai sono solo a meno due, su. Io sono arrivato solo a dodici. Questa è stata una brutta partita. E prima sei arrivato a diciotto. Ormai ti stai specializzato in Kintai. Ti sei specializzato in Kintai, eh. Ti one trick pony. Ti one trick pony, eh. Che fanno solo un personaggio. Se c'è un forum di... Di Brolalla ci saranno questi one trick pony, strappo il solito trader. Eh sì, eh. Secondo me sì, eh. Guardate che... Modifico un tasto. Cosa fai? Gli fai le mesh? Sì. Allora. Scherzavo. Non modifichi il tasto. Allora. Allora, adesso ho modificato, credo di aver modificato i tasti. Ecco. Fa uscire dal menu. Basta premere X. Non il tasto però. Oh, signor. Vediamo le missioni di oggi. Posso giocare con Giala e l'ho fatto. Sì, ma devi farlo nell'altra modalità. Facciamo... Tu invece di giocare a Overwatch, gioca Brolalla nell'altra modalità, così ti fai tutte le missioni. Tu ancora con Cassidy? È quello che sto facendo con... Cosa? Quello che sto facendo con Butterite. Sono a livello 5. Ah, lo stai facendo con Butterite. Ho giocato un'ora, eh. Ma guarda questo emo del cavolo. Non ti esaltare tanto, le modi cavolo sono un bop. E CPU 2? Ma sinceramente non mi ricordo se cp1 o cp2 che ha preso l'emo. Se premì tab te lo dico. Sta cercando... È un discreto successo di buttarmi giù dalla piattaforma. Adesso, parliamoci chiaro, non che sia così complicato tirarmi giù dalla piattaforma. Bello! 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 Grazie! Oh, sono a 3. Oh, ho, ho, ho! Cazzo! Cazzo! Di nuovo! Fitta! ma no tranquillo che tanto mi butto giù dalla piattaforma da solo e qui vado almeno uno trolla cazzo sono arrivato ultimo ero primo sì a metà partita oh bene mi sono accorto di una cosa cosa? che si è sentito da cani l'hai scoperto adesso? e sono le 22.2 che dici switchiamo? tranzollo ma si dai tranzollo adesso sistemo io sono uscito da Brunalla tanto io ti sentivo già da prima tu mi sentivi già da prima perché non senti attraverso lo streaming allora ok adesso dovrei essere audibile tu sei uscito da Brunalla ottimo lo farò anch'io e devi cambiare il gioco in descrizione cambiare il gioco in descrizione fare un po' farollo faralli 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 farò sì nel frattempo dai un argomento di discussione così discutiamo allora un argomento di discussione così discutiamo quello che stavo dicendo prima quello che stavo dicendo prima fuori onda su sul data mining di Overwatch che hanno che pare pare da alcune indagini che ha fatto un utente twitter di cui in questo momento non ricordo il nome tu dimmi quando devo avviare devo avviare butter ma non ce ne frega niente è fondamentalmente il nome del tipo ha fatto una è andato a guardare il codice praticamente di Overwatch e ha scoperto che ci sono i messaggi di avvertimento per i ban cioè ci sono dei messaggi che ti dicono il tuo comportamento non aspetta le linee condotte del gioco e se vai avanti così verrai bannato e ci sono anche le penalità ovvero il genere dice verrai sospeso per una stagione completa per due o per tre ma non ti verrà impedito di accedere alle quick e alle modalità arcade sapete vero cosa significa mi si è smontata la lampada si è staccato questo pezzo della lampada vedete devo aprire l'app di Twitch sul cel che devo vederlo perché ho aperto un butter ride quindi non ma no questo pezzo adesso quando vedrai il video riconoscerai il pezzo che ho in mano ma va fa va la mia pubblicità di della PS4 ok resto qui con il pezzo in mano ma va fa bagno resto qui con il pezzo in mano davanti a me lo vedi? no perché c'è la pubblicità ancora 13 secondi ah ok resterò qua 13 secondi con il pezzo in mano ho spostato la lampada si è staccato il paralume e mi è caduto ecco dimmi ah eccolo là quando lo vedi eccolo là adesso devo cercare di rimontarlo aspetta dovrebbe essere difficile cazzo sta vera proprio si è staccato il pezzo dalla lampada pixar la lampada che si chiama è dell'ikea e si chiama tertial ma perché il mio il mio faccione sta fermo quando parlo è forse ritardo no 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 è proprio fermo e il riquadro con soscritto Giona non copre risulta essere più spostato a mia immagine risulta essere più spostata ah è vero non capisco ah ecco adesso ogni tanto li vedi adesso io mi vedo muovere credo che sia il lag della di Twitch comunque credo di aver sistemato il riquadro va bene se l'ho spostato si è il riquadro sistemato ok siamo a Butterlight questo gioco che noi avevamo iniziato come gioco a caso che ci ha divertito come tanto ma perché devo però no ma non vuoi comprare niente non ti preoccupare chi è stati i nuovi eroi che hanno aggiunto che se puoi puoi comprare aspetta eh che sta caricando no piocchetta tentativo di connessione squadra 1 ah invitami non mi ricordo non mi ricordo come si fa ad invitare invita amico c'è che sa così ti ho invitato aggiunto ah uno contro uno così con i bot no non vengono essere ok va bene ok va bene così devi premere riempi con i bot posso aggiungere i bot sì c'è il pulsante sotto riempi con i bot beh non so io non lo posso premere perché ovviamente la partita è creata tu sì no l'ho preso abbiamo la difficoltà ai bot ma cos'è media sì adesso non è difficile proviamo dai pronto che se no per me guarda per me possiamo giocare anche contro altri giocatori volevo cambiare personaggio ma non importa non lo sapevo neanche io ho cambiato personaggio penso un po' non ho idea del personaggio che c'ho la verba ormai non puoi farlo ormai non posso fare a me fermo tutto però a me sta il caricamento a me è finito il caricamento io so il caricamento sono a 400 c'ho finito il caricamento c'ho l'animazione spastica no io ho inizio partita a 0 eccomi oh ho scritto oh è un po' è un po' è un po' instabile sto gioco un po' tanto sì in effetti settimana scorsa ti ricordi sì continuare a uscire continuiamo a buttarti fuori è bloccato da me non ti muovi però la chat fa non riesci a muoverti con wild no no non ho la schermata del gioco ho la schermata di attesa inizio partita e esco ho uscito ho uscito cazzo cazzo allora mi connette sono da solo ma niente caricamento 111 8 ma il caricamento di cosa che io sono da solo non ci sei da solo te lì è appena finito è appena finito caricamento esco abbandona partita ok sono nella menu ok invita amico accetta ma va a cambiare la regione del server come si fa a sinistra a destra di gioco mappa sotto regione server spagna vedi se c'è qualcosa l'europa occidentale che secondo me spagna è europa trova un generico europa occidentale vorrebbe cambiare un caso sto cercando di fare riempi con i bot però non me lo dà vabbè però in realtà ho fatto 3v3 tu sei pronto? pronto giochiamo uno contro uno uno contro uno ah no aspetta non si può non ti fa premere? rosè aspetta ok forse 3 non puoi usare no era modalità sbagliata devo aver cambiato modalità per sbaglio arena sì arena perché altrimenti uno contro uno non si può fa scegli un campione sì mi va bene Jade no fear io radiatore sono giovane la cosa bella è che lui ha sentito la battuta e ho fatto finta di niente ha preferito di anche commentare per la sera voglio essere franco anche se sono Matteo non so che abilità che skill ho scelto fa niente allora spazio salta come e e non e la mazzetta sui denti eh cioè tipo Thor con due martelli non accado si chiama Freya tu ti muovi ando io ti vedo fermo sono l'animazione di Ascensore ok ora vedo che ti muovi ma cazzo ma adesso se io colpissi i nemici invece di faremi cretino il stronza ci avete il stronza ci avete c'è sta skill che ti fa scappare credo il bot culo culo che culo ma non poteva durare poloma quindi il bot di questo gioco che i bot sono quindi più bravi di me cazzo di nome è poloma vabbè che cazzo di nome è genx scusami ragione pensa che è inventato anche poloma penso cazzo sono già morto cazzo sono già morto io faccio il tifo per il mio io sto morendo il mio sto morendo aspetta ma forse riprendo che puno ma l'abilità panic ultima ready dai che vince il mio bot quel personaggio è carino l'ho usato un po' ma non è giusto il tuo bot diventa un mini peamer senti ma fate ma fate l'antidopping a shifu non è possibile sai che ho abbastanza fate per non lo so però ce l'ho però ti dirò una cosa non è quella là sempre più bella della tua credo abbastanza lancio martelli a caso il tuo bot mi ha ucciso ancora salto fuori poi ci risalto dentro è molto oh l'ho f***a io credo però è stato più bravo shifu fa un po' shifu ora ok polona è la bella è la bella raga è la bella per poter vincere questa situazione perché non va bene stiamo parlando di genxa è un bot non stiamo parlando di tizio caio sempronio anche perché tizio caio sempronio sono tre e noi siamo le mette tizio caio sempronio uno solo è uno solo è perché lancio le cose a caso perché è il tuo stile di gioco a caso a volte non sembra asia posso arrendermi direttamente dartela vinta e andare a fare altro non so leggere un libro ah no non so se hai notato cosa ho fatto schifo no saltato fuori dall'area d'effetto del colpo e tu dici beh tu dici beh sei stato bravo a saltare fuori dall'area d'effetto del colpo no bravo shifu e poi ci sono risaltato dentro bravo shifu tu direi non stai parlando a un bot o è migliore della partita ragazzi quanto faccio schifo questo gioco ma modificare un settaggio e non sono già le 22 20 sono le 22 20 siamo a 40 minuti di diretta 50 minuti di diretta e stiamo collezionando spettatori quindi io andrei avanti ah vogliono vedermi vogliono vedere che vengo picchiato giochiamo contro qualche giocatore vivo così picchiano anche me e poi si non lo so cos'è allora aspetta ti invenzo esatto tu invitami anche inenzi già che ci sei ok ti ho invotato bravissimo lascia stare che un po' di anni fa ho tamponato un furgone ho tamponato un furgone mercedes vito fai la constatazione prendi dati del guidatore prendi eccetera sai come si chiamava il tizio vito vito allora facciamo leader incontrati per riderci sopra vero eh sì va bene abbiamo accumulato spettatori e noi e noi andiamo avanti a fare figure di elma e noi andiamo avanti a fare figure di elma sì anche perché come le faccio io per questa sera è tremendo qui a battle e se sto gioco si diffonde un po' avremo una una marea di cosplayer i personaggi sono molto carini eh cosa devo fare adesso premere pronto io non c'ho niente dove devo scrivere devo premere pronto casuale scegli il personaggio hai scelto ok in attesa di giocatori match match attesa stavo dicendo sono carini i personaggi vediamo che funzioni meglio di quello di overwatch come estetica e vedrai come come lei è qualcuno dai è partito è partito è partito in realtà anche di overwatch ho visto play spettacoli le prenderò tantissimo allora io sto facendo un healer che non ho mai usato lì allora e lancia una boccetta che causa danni e panica il bersaglio lancia una potion che taglia via i nemici e ti cura spazio protettivo barrier ah è zaria di overwatch abbiamo 23 secondi per cazzeggiare aspetta che provo a vedere ah non posso fare niente si fare te intanto ho funzionato molto bene come healer non ho capito ma perché il tuo è un healer sicuro è stato bellissimo vabbè prendo un altro personaggio siamo durati 20 secondi se vogliamo arrivare come squadra al secondo posto siamo sulla strada giusta vedi questa roba qui ti cura ma perché non me le lanci così spesso come dovresti perché stavo cercando di capire come funziona la barriera e dice protegge un alleato ma in realtà proteggeva solo me ehi aiuto morto tu sei bravo di me resisti più a lungo si ma non con lei è che faccio poco danno e mi curo cioè faccio poco danno mi curo quando faccio danno però ne faccio troppo poco per ammazzarli funziona meglio l'altro healer comunque vediamo cosa riesco a fare ah è il rapper sono convinto che qualsiasi giocatore funziona meglio di me in questo gioco r per schivare per me r per te lo spazio come con tutti gli altri lo spazio è salto come con tutti gli altri lo spazio ti fa e salta e si capire come fare con r qua vieni qua vieni verso il centro e perché io ho un cooldown delle cure se non stiamo vicini vabbè questa qui l'abbiamo persa ma la abbiamo persa male cambia personaggio adesso guarda onestamente sono io che sono un cane non ti sono di supporto cioè io ti potrei dire Cristo Santo sono più bravo a overwatch e ce ne vuole aspetta ho vinto un forziere go to chest vediamo un po' cosa c'è dentro questo forziere un avatar cioè una che è una tetta 500 gettoni un montone una cosa che non ho capito che cos'è un'arma un montone e un avatar che è una tetta maschile vedo che non so cosa siano i gettoni quindi non ho capito a cosa cazzo servono se qualcuno di voi che ci sta guardando lo sa ce lo spieghi allora io non prenderai due tiratori a sto diciamo un tiratore e un corpo a corpo prendere solo questo comprata questa qua subito perché hai abbastanza soldi per comprarlo si ho comprato questa tipina qua tanto non la vedo però fa niente va beh adesso ah si eccola ho presente blossom blossom che ha in testa un pollo un gu cos'è non lo so posso usarlo o no no l'ho comprato no nel senso sto guardando degli eroi mi chiedevo se potevi utilizzarli ecco perché alcuni li puoi utilizzare altri no altri hanno un look quella nuova ha un look quindi non sapevo se quello che stavo selezionando potevo utilizzarlo tutto qua non è che comunque a me sto giochillo non dispiace devo dire allora neanche a me ascolta te lo dico onestamente te lo dico onestamente le prime partite che ho fatto sono morto una quantità imbarazzante di volte tanto che a un certo punto uno dei due che era in squadra con me mi diceva che tasti premere capito diceva premi F premi R premi Q imbarazzante abbastanza la mappa Le prenderemo tantissimo Ok Vai Prego Tutto Eh ma sono morto Eh non vieni a picchiare Quelli che picchiano me Ok È durata tantissimo la partita Morti Bella Non mettere Troppi puntini sulle I Ne basta uno Allora io ti curo Tu evita che mi picchino E non funziona questa cosa qui Perché a questo punto servirebbe un tiratore In due non va bene No ma funziona anche in mischia Sto un po' lontano C'è Il problema è che gli altri sono due Che ho un cooldown lunghissimo Non riesco a sputarmi Vai con la Q No la Q la F Ho schiacciato Q Non so cosa ho fatto È la barriera credo Te lo dice sotto Quando ti dice Definitivo ability ready F Sono gli stessi tasti Di tol Beh non è che siano così facili da raggiungere Quando hai le tre dita principali su WASD Ah infatti Infatti sto cercando di usare la G13 Ah che Vabbè va Lì L'albero Sta dentro L'area L'albero C'è Perché questo qua Mi fa un danno allucinante Anche a metà di salute Nella rotazione free C'è poca roba Proba È stato bellissimo Dai facciamo lui Guarda io mi semberei qua Mi hanno picchiato troppo Dove volte questa sera Ma metà del quarto livello Ma in questo caso Ce l'hanno solo gli altri Ma metà del quattro Io sono a metà del due Come lo vuoi Ho equipaggiato una Andiamo un po' Ok allora niente Abbiamo preso abbastanza Abbastate questa sera Facciamola un'altra Dai Eh? Andiamo a fare l'ultima Guarda io te l'ho detto Io vorrei preferire di no Allora no No non facciamola C'è nel senso Duriamo 20 secondi C'è anche Umiliante per noi Rimandiamo la settimana prossima Se devo fare umiliare Facciamo un po' di pratica Fai un po' di pratica Ho ricevuto Ho ricevuto Ok Detto ciò A me piace Veramente Ma guarda Non è brutto Ma quando fai dei match E ti piatti Dopo 20 secondi Ti ricordi le prime partite A brolarla Con i bot Sì Mi ricordo le prime partite A brolarla Con i bot Tenditi conto Che i bot Li picchiamo ancora E in giocatori veri no Esatto Finavamo a meno 12 Meno 13 Con i bot Dunque Ci avviciniamo A grandi passi Alla fine Questa diretta Quindi Anche se sono le 22 36 Li avremmo Dai Iscrivetevi I social E devo scantare spam E non social Al gruppo Telegram E ai social Che ho linkato prima Al gruppo Telegram E iscrivetevi Al canale Lasciateci un follow Lasciateci un mi piace Se ci guardate su Youtube E domani sera Siamo qui a fare Figure Forse un po' migliori Se riesco A tornare in tempo In GTA 5 Se no sarò Da solo A fare figure Migliori Perché in sto gioco Ho giocato da cani Anch'io Per le 9 e mezza Magari riesco A Anche prima Delle 9 e mezza Riesco Buona notte E Buone Buone Botte Ciao Grazie a tutti C'è Grazie a tutti